Una colonna di fuoco e fumo visibile a chilometri di distanza. Nella tarda serata di lunedì un maxi incendio è divampato nella zona industriale di Bari, in via Fratelli Philips, nel capannone di stoccaggio della Beltom, azienda specializzata nella compravendita di prodotti online. Per domare l'incendio sono state necessarie 11 squadre di vigili del fuoco, immediatamente intervenuti sul posto e che hanno lavorato per ore per evitare che le fiamme raggiungessero anche la vicina azienda di vernici. Le operazioni di bonifica sono andate avanti per tutta la mattinata, in uno scenario di devastazione in cui dalle macerie continuava a sollevarsi fumo nero. L'incendio fortunatamente non ha provocato vittime né feriti, ma ingenti sono stati danni causati dalle fiamme. Polizie e carabinieri sono giunti sul posto per le prime rilevazioni, ma le cause del rogo restano ancora da accertare. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini di sorveglianza per individuare il punto di innesco e ricostruire la dinamica dell'incendio che ha distrutto il capannone dell'azienda. Sul luogo anche i titolari, che visibilmente scioccati, hanno preferito non parlare in attesa che venga fatta luce su quanto accaduto.